benvenuti nel canale meli made in sud passata qualche oretta dal registramento precedente come avrete letto dal titolo svuota la spesa euro spin versione beauty barra casa allora l'ho diviso perché volevo rendere il video più breve entrambi video in realtà prima di iniziare vi ricordo che mi trovate su instagram con nick meli punto made in sud e se sentite vocine vociferare risate tutte queste cose qui silvanuccio con con giulio di là nella nella cameretta allora passo subito col farvi vedere quello che ho il mio bottino che ho ecco messo a segno da euro spin allora c'erano diverse cose per la casa io acquistato però due cose allora c'erano contenitori un bel po di contenitori la versione media non c'era più c'era soltanto la versione o grande oppure piccola in passato ve li ho fatti vedere sul la tipologia di video andiamo insieme da euro spin la ritroverete lì questa mattina mi sono decisa a prendere tre contenitori cioè no tre contenitori perché la confezione contiene tre contenitori ne ho prese due di confezioni della linea vicino a te contenitore impilabile piccolo made in italy 19 x 14 x 9 cm vedete è una colorazione beige comunque una colorazione neutra si è proprio beige lì in video sembra bianca ma è proprio beige perché li ho acquistati in un secondo momento perché mi ritrovo a riorganizzare alcuni mobili della cucina soprattutto la zona dove conservo l'olio le spezie insomma quei mobili che utilizzo maggiormente che apro e chiudo maggiormente e quindi ne ho presi in totale sei così ogni prodotto in questo caso che so le spezie oppure la bottiglia di olio oppure che so le due bottiglie di aceto balsamico hanno ognuno il loro posto e sono molto semplici da estrarre perché hanno la maniglia ok quindi quando voi andate a mettere all'interno di un mobile è molto semplice tirarli fuori perché non dovete prenderli con la mano così ma appunto vi aiutate grazie alla maniglia ma la cosa bella è che li potete mettere anche in questo modo così da andare a guadagnare spazio io li metterò in modo classico all'interno del non sono a fuoco dicevo io li andrò a mettere in modo classico all'interno del della credenza poi se giro una video organizzazione e ne ho prese due confezioni dopo vi dico i prezzi sono anche utili da mettere in bagno sotto al mobiletto del bagno sono sono comodi così avete tutto che so all'interno di un contenitore mettete i vostri prodotti per la pedicure un altro per la manicure in modo da non ecco per una questione di genere non andare a miscelare diciamo che so una lima la utilizzate per i piedi una lima la utilizzate per le unghie delle mani oppure in un altro potete mettere le spazzole oppure in un altro potete mettere dei trucchi se magari non utilizzate tantissimi trucchi insomma si possono utilizzare veramente in tantissimi modi poi per quanto riguarda la casa come novità ho preso amo essere eco a 73 per cento materiale riciclato il mop green cotone riciclato della linea sistema casa busta riciclabile nella carta massima efficacia ed assorbenza questo qui si può lavare a 40 gradi ma a mano non va assolutamente in lavatrice vedete qui c'è la leggenda che vi dice come dovete lavare il il mop eccolo qui è la prima volta che lo acquisto la cosa importante che vi segnalo è l'attacco perché dice specifica che è un attacco universale io ho la scopa della vileda infatti silvano mi fa melania ma non è che questo mop non va bene cozza con quello della vileda leggendo le etichette importante leggere le etichette abbiamo capito che va bene dovrebbe andare bene comunque dopo lo provo composizione del filato misto cotone riciclato all'ottanta per cento elevata capacità di assorbimento per tutti i tipi di pavimento lavabile lava in lavatrice fino a 40 gradi modalità d'uso utilizzare sempre umido anche senza detergenti aspettate ma qua non c'è il divieto per la lavatrice poi c'è il divieto per la lavatrice però c'è scritto che si può lavare in lavatrice fino a 40 gradi ma forse sto sbagliando io starò sbagliando io sicuro poi ho preso questi non li prendo mai però a volte capita che è venuto qualcuno qualcuno è venuto dall'anno mia mamma invece piacendo cucciarine cucciare cucciarine allora a me piace apparecchiare fa sticcose mi piace però non arrivano ogni giorno se mette a fare la tavola di novenberg quindi sistema a casa 50 pezzi 100% in legno di betulli cucciarine sinceramente chi se la ci piace buco a fe ma no per me si vanno perché si vanno ci mette il zucchero ci mette la panna la panna a proposito non avete visto la panna nello gioco della spesa e quindi ho preso questi qua 100% legno di betulli cucciarine e carta praticamente mamma mia questo rumore sta carta sta plastico mamma mia proprio mi fa a roppo veri che prezzo poi ho preso in realtà l'ho ripresa di dottor fit la crema per i piedi sempre in un video andiamo insieme ad euro spirit vi ho fatto vedere che sono tornati un po' di settimane fa tutta la linea io ho ripreso quel prodotto secondo me proprio top di questa linea se la trovate prendetela perché è eccezionale della crema piedi per pelli secche e screpolate all'interno trovate il 10% di urea olio di mandorle dolci, burro di karité, acqua attiva e bio di meli loto e vite rossa dermatologicamente testato questo qua allora io ho quasi terminato la crema l'ho veramente centellinata perché è eccezionale 150 ml per un paio di 6 mesi ed è prodotta da OPAC vedete qui c'è anche la lista ingredienti se siete interessati qui c'è tutta la descrizione e questa è la crema è una crema che si massaggia facilmente sui piedi vi lascia i piedi non tanto profumati ma vi lascia i piedi estremamente estremamente morbidi mi raccomando potrebbe risultare inutile questa precisazione ma è doverosa secondo me è molto importante avere però i piedi di base ben curati perché se avete i piedi pieni di callosità occhi di pernice insomma se avete i piedi da ristrutturare ecco potete applicare la crema anche ogni giorno anche due volte al giorno ma il risultato cioè ragazzi non può andare oltre un determinato limite quindi i piedi devono essere sempre curati o lo fate da soli o dall'estetista io vado all'estetista perché in base al modo in cui cammino ho bisogno per forza dell'estetista quindi vado regolarmente dall'estetista e poi applico ogni giorno prima di andare a dormire questa crema è un vero e proprio portento si assorbe benissimo si massaggia che è una bellezza riuscite anche ad effettuare un vero e proprio massaggio sul sul piede quindi si assorbe ma vi lascia il tempo di effettuare un massaggio qualora voi lo vogliate il giorno dopo avete i piedi estremamente estremamente morbidi se non l'avete mai provata questa crema anche la crema per gambe leggere è buona ma questa secondo me è spettacolare è il cavallo di battaglia del dottor fit poi dopo vi dico i prezzi poi come ho visto anche da elisabetta elisabetta ti mando un bacio grande grande elisabetta del canale elisabetta r è arrivato lo scrub in realtà lo scrub doveva arrivare una quindicina di giorni fa perché io le come si dice un età da euro spin ma arriva 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 ma non arrivava mai e quindi buonanotte su natura quindi di in primis lo stesso marchio che produce gli attivi che vi ho mostrato in passato quando sono usciti è uscito questo fango corpo rimodellante quindi è un fango non è uno scrub dalga marina e argilla bianca con caffeina che contrasta gli inestitismi della cellulite allora ha un paolo di sei mesi e la confezione da 600 grammi ed è prodotto da cosmo project una marchia assolutamente familiare a chi frequenta euro spin little md hard anche anche di altri supermercati ad esempio dai percopio ci sono tanti prodotti prodotti da cosmo project qui vi lascio la lista ingredienti questo è il il fango corpo e qui ci sono le varie specifiche ok come si utilizza mescolare accuratamente il fango e stenderlo sulle aree interessate lasciare agire per 30 minuti sciacquarlo con acqua tipida applicare una volta a settimana per un trattamento d'urto applicare il fango tre volte a settimana a scalare progressivamente fino a un'applicazione settimanale quindi per lo da per mantenimento fango d'alga oceaniche dall'azione drenante e rassodante l'emulsione cremosa permette una stesura pratica e piacevole l'azione rime il remineralizzante dell'alga la minaria e quella stimolante dell'alga fucus fa di questo prodotto un vero e proprio fango di bellezza l'argilla bianca e rinomata per le sue proprietà purificanti e lenitive e la sua presenza conferisce una gradevole sensazione di blanda esfoliazione durante il messo il massaggio la presenza di estratti di edera ipocastano e centella sedica prevene gonfiore e pesantezza di gambe e caviglie la caffeina riattiva il microcircolo contrastando gli anestetismi della cellulite gli oli essenziali di timo e qualipto e rosmarino donano un'immediata sensazione di freschezza ma io non vedo l'ora di provarlo questo è il fango e non vedo l'ora di provarlo scusate è il corriere che ha bussato non vedo l'ora di di provarlo quindi ci aggiorniamo ci aggiorneremo strada facendo questo già ve lo dico il prezzo siamo sui 6 euro se non ero sì 5 99 comunque dopo ve lo preciso nel grazie allo scontrino mi raccomando sì è importante l'utilizzo delle creme sì è importante scrub massage tutte ste cose qui sono importantissime però alla base se non ci prendiamo cura del nostro corpo con una sana ed equilibrata alimentazione per sana ed equilibrata intendo un piano alimentare specifico per il nostro corpo per il nostro organismo per le nostre esigenze magari se ci sono per le nostre carenze o se ci sono delle patologie insomma quello è veramente alla base perché se noi ci riempiamo di creme scrub andiamo anche dall'estetista a fare 200 massaggi ma non ci nutriamo correttamente a che cosa serve non serve a una mazza quindi questo è un come si come si dice è un prendersi cura ulteriormente della della propria pelle ma di base deve esserci una sala sana alimentazione e anche una adeguata attività fisica scusate poi sono arrivate da euro spin diverse bombe da bagno mentre parlo vi metto qui le fotografie io ho preso la versione alla rosa bomba da bagno questa qui alla rosa allora vi dico che profuma tantissimo ma proprio tanto 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 allora aspettate che sto cercando l'azienda allora la balistica perché queste si chiamano balistiche bombe da bagno sono da 250 grammi e sono made in spagna arrivano da valencia eccole qui qui abbiamo la lista ingredienti no scusate qui abbiamo la lista ingredienti sono una coccola da fare nella vasca ora che arriva la bella stagione ora che arriva la bella stagione ecco una bella bomba all'interno della vasca chissà com'è vedo all'interno anche delle parti bianche e vedo anche dei micro granuli non so se sono percepibili dalla fotocamera ma ci sono questi micro come se ci fosse all'interno anche una sorta di scrub ma lo vedremo soprattutto vedremo se profuma anche all'interno della vasca se fa schiuma che reazione ha la mia pelle che estremamente delicate così e vedremo poi ho preso una delle tre maschere si tre maschere che sono uscite anche queste dovevano uscire più di 15 giorni fa forse questi anche una ventina di giorni fa sempre del marchio in primis ok e io ho preso la maschera all'argilla lenitiva con argilla rosa e burro di carité 94 per cento di ingredienti di origine naturale 75 ml per un pao di 12 mesi qui vi lascio la lista ingredienti mentre parlo faccio scorrere le altre tipologie di maschere con le relative liste ingredienti vi dice anche dove applicarla quindi anche qui stiamo parlando di cosmo project questa maschera impiega l'argilla rosa ad azione di sarossante e lenitiva calma illumina la pelle donandole ristoro e bellezza applicare su tutto il viso o su zigomi e aria per il labiale lasciare in posa per 5 10 minuti quindi asportare sciacquando vedremo vedremo vediamo se la confezione aperta ma profuma molto poi dopo vi dico sempre prezzi infine anche in questo caso sono tornati gli attivi sempre del marchio in primis ve li ho fatti vedere appena sono usciti ve lo metto all'interno delle schede informative questa volta mi sa che ha cambiato la confezione si io la vedo diversa c'erano tre tipologie gialla rosa e azzurra allora attivo puro alfa idrossiacidi perché nasce questo prodotto per illuminare il viso effetto peeling e antimacchia sono 30 ml questa è la lista ingredienti eccola qui quindi abbiamo 30 ml per un paio di 12 mesi linea di seri liquidi di ingredienti funzionali da utilizzare da soli oppure da abbinare alla propria crema viso per un effetto booster è quello che faccio io praticamente la texture fluida risulta particolarmente adatta alla stesura e si asciuga rapidamente leggiamo anche le modalità di utilizzo applicare sul viso qualche goccia grazie all'apposito dropper e massaggiare stendendo sulla superficie interessata fino a completo assorbimento uso esterno evitare il contatto diretto con la zona perioculare gli alfa idrossiacidi sono sostanze acide appunto in grado di rompere i legami delle cellule epidemiche favorendo la desquamazione cutanea infatti con l'invecchiamento la velocità del rinnovamento cutaneo inizia a ridursi portando a una pelle più spente opaca è consigliato l'utilizzo su pelli grasse o miste anche se è possibile trarne giovamento anche da anche in caso di pelle secca a condizione che i prodotti siano applicati su una acuta e ben idratata ed abbinati ad un cosmetico idratante e nutriente una cosa molto molto importante che voglio precisare stiamo parlando di cosmetici e non di farmaci ok ciò significa che sono dei prodotti come anche le creme tutto quello che utilizziamo aspettate altra videochiamata cioè chiamata scusate dicevo come per tutte le creme i sieri i booster e questo e quell'altro sono dei prodotti validi quando li troviamo validi e sono performanti nel momento in cui andiamo ad applicare ma non curano perché quello che va a curare è il farmaco non il cosmetico ok tant'è vero che questi li trovate nelle farmacie nei supermercati in questi posti quando invece dobbiamo curare qualcosa dobbiamo utilizzare un farmaco un po come i capelli no ci sono tanti prodotti con la dicitura aiutano a crescere i capelli l'anticaduta oppure rafforzante rinforzante per le unghete queste cose qui ragazzi sono cosmetici non sono farmaci quindi per alcuni prodotti c'è un beneficio come per esempio una crema idratante un anti rughe queste cose qui nel momento in cui voi l'andate applicare altri prodotti non hanno completamente efficacia perché non sono efficaci non c'è nessun dato che attesti la loro efficienza e poi ci sono i farmaci quindi se ci sono dei problemi ad esempio di caduta forte e estremamente problematica dei capelli si rivolge ci si rivolge al medico e poi il medico ci darà un farmaco specifico per questo problema ok ma ridimensioniamo un pochino le cose e giustamente l'azienda lo scrive scrive che è un cosmetico e non un farmaco quindi miracoli non li fanno né questo prodotto che trovate da euro spin che costa meno di 10 euro né la crema che costa 200 euro in profumeria precisata 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 precisazione precisata allora questa è la confezione praticamente la confezione è identica solo è cambiata la tipologia del contagocce e l'etichetta però il prodotto è sempre all'interno della boccettina in vetro con il il contagocce allora lo apro perché lo andrò a utilizzare l'odore è pari a zero quindi è giusto che sia giusto che sia così allora vi dico i i prezzi allora i contenitori 2 euro e 99 la crema per i piedi 2 99 il mop 1 e 79 la bomba da bagno 1 e 99 il fango 5 99 allora ricordavo bene i principi attivi puri 3 e 99 e basta questo è quello che ho comprato da euro spin si trovano sempre delle chicche a proposito restate sintonizzati perché stanno uscendo altre chicche mi raccomando per cortesia quindi restate sintonizzati sul mail e mail insieme sto scherzando e fatemi sapere se avete trovato questi prodotti quale vi ha colpito cosa ecco via incuriosito incuriosito colpito stuzzicato insomma cosa è stato la vostra attenzione vi ricordo che mi trovate anche su instagram con il link meli punto maden sud e come sempre un bacio un abbraccio e un tarallino